a parlare senza dire niente oh yeah l'importante è che dare la comunicazione e poter esprimere la propria opinione oh yeah e se uno non ce l'ha, peggio per lui userà l'opinione altrui oh yeah per poterla orrare, magari per poterla imporre e nelle discussioni guai ad ascoltare oh yeah e se uno ascolta, adesso come adesso, ci fa pure la figura del festo oh yeah anche l'italiano non è più quello di prima ma come ve lo devo dire, il rimo oh yeah la grammatica non si sa più cosa sia è arte, creatività, fantasia è un concetto astralto, un'idea che uno si monta da solo, come all'Ikea oh yeah oh yeah oh yeah e noi venici e contenti sbagliamo i verbi, gli aggettivi, gli accenti oh yeah no così fra due o tre secondi ci ritroveremo a parlare da soli oh yeah vabbè, in fondo ci speriamo, chi ci capisce? è bellissimo oh yeah grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti